commesse di lavoro molto importanti, il lavoro non mancava, però con la scusa della crisi ha deciso di delocalizzare tutta quanta la produzione in Serbia, perché chiaramente il costo del lavoro è molto minore. Un'azienda che fa con l'an produce calze, le gold and lady, e quindi ha lasciato una città come Faenza con 350 dipendenti, di cui 290 donne con il sedere per terra. Noi ve lo vogliamo far sapere, il nome del nostro tour è questo, ma quale crisi? Grazie! A fuori crisi è questa crisi, un'arruga nuova sopra i nostri visi, togli il lavoro e i diritti, dopo non staranno tutti zitti, ma i versi d'azienda hanno deciso, sui quotidiani è apparsa la notizia, il sito produttivo smantellato e lo verrai scaricato come l'imordizia, e non veniteci più a raccontare della crisi globale, e proprio voi i piqui impazzmati che ti siete inventati per far di quel peggio ancora peggio. Il sentimento che si trova è un miracolo, e speriamo possa rendere i granacci, del meccanismo sempre un po' più trevoli, che noi siamo i lavoratori d'oggi. Il sentimento che si trova è un miracolo, è riuscire a scaldare i giorni nuovi, toglieteci il lavoro dalle mani, ci rimarrà la voglia di esservi. Fa culo a queste regole e al mercato, di un lavoro che ci hanno promesso, le donne con un numero e una tuta, non credono che questo sia il progresso, ci dicono che del localizzare è l'unico sistema, portare quella fabbrica di carte fuori dal confine, non è una storia di etopide. Il sentimento che si trova è come ruccine, e speriamo possa rendere i granacci, del meccanismo sempre un po' più trevoli, che noi siamo i lavoratori d'oggi. Il sentimento che si trova è un miracolo, non riuscirà a scaldare i giorni nuovi, toglieteci il lavoro dalle mani, ci rimarrà la voglia di essere vivi. Davide Fanti alla batteria! Il lavoro a basso costo, vantaggi dai governi, capitali che si spostano e a noi i mutui eterni, i politici si fanno cucire le tasche più capienti, e ridendo poi ti dicono no, non può essere altrimenti, e ridendo poi ti dicono, e da sempre va così. Il sentimento che si trova è come ruccine, e speriamo possa rendere i granacci, del meccanismo sempre un po' più trevoli, che noi siamo i lavoratori d'oggi. Il sentimento che si trova è un miracolo, che riuscirà a scaldare i giorni nuovi, e toglieteci il lavoro dalle mani, ci rimarrà la voglia di essere vivi, e toglieteci il lavoro dalle mani, ma vedetevi fare che siamo vivi!